Potrebbe aprirsi uno spiraglio per Chira, il cagnolino scappato da casa nella notte dei fuochi d'artificio per Sandonato, ma anche per Otto e Birba, come per gli altri cani attualmente in quarantena al canile comunale di Arezzo, a seguito dell'ordinanza emessa dal sindaco Alessandro Ghinelli per il contenimento dell'infezione rapida dopo il caso del gatto morto di Lissavirus. Il primo cittadino di Arezzo ha infatti firmato una nuova ordinanza, la numero 153, che modifica quella precedente. In pratica le prescrizioni previste dalla vecchia ordinanza decadono il 12 agosto e non più il 27. Il nuovo provvedimento segue la nota del Dipartimento di Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria dell'azienda Asla Toscana Sud-Est, con cui si spiega che il Centro di Referenza Nazionale per la Rabbia individua come ultima data di possibile contagio, l'ultimo giorno in cui l'animale ha avuto accesso ad ambiente esterno non confinato e in assenza dei proprietari o dei veterinari curanti. La data è quindi da identificarsi nel giorno di sabato 13 giugno, cioè quando il gatto infetto da Lissavirus è stato trasferito da Arezzo alla clinica veterinaria di Monzumano Terme in provincia di Pistoia, dove poi è rimasto sino al decesso. E così da questa sera i cani trovati vaganti non dovranno più scontare una quarantena di sei mesi in canile. Per Chira e per gli altri amici a quattro zampe attualmente in isolamento si attendono invece ancora comunicazioni ufficiali. Le famiglie e le associazioni animaliste su tutte l'EMPA che gestisce il canile comunale hanno chiesto più volte la possibilità di terminare l'isolamento a casa sotto la stretta sorveglianza dei proprietari.